L'Accademia d'Arte Ora Fadifano in collaborazione con il Liceo Nolfi Apolloni organizza dei corsi estivi riservati a persone maggiorenni italiani e stranieri che intendono perfezionare il loro bagaglio di conoscenze nel settore del gioiello d'artista e dell'accessorio fashion. Nel corso di una conferenza stampa questa mattina sono stati presentati i corsi 2024. Quest'anno è il secondo corso del gioiello d'artista. In pratica questo corso si realizza nel Liceo Artistico Apolloni di Fano e va a mettere in evidenza questa grande realtà fanese sul gioiello d'artista contemporaneo. Abbiamo avuto la grande tradizione di Mannucci che ha portato i grandi maestri Burri, abbiamo avuto poi Giorgio Efachini, ma abbiamo avuto Arnaldo Pomodoro che al TAM di Pietrarubbia ha realizzato la scuola internazionale del gioiello. Quindi Fano vorrebbe riprendere questo momento della scuola internazionale del gioiello per arrivare ad avere una situazione inedita e contemporanea sul gioiello d'artista. Due le serie di lezioni che quest'anno si svolgeranno. Il primo dall'8 al 13 luglio con il corso base Experience. Anche quest'anno andremo a ripetere l'esperienza positiva dell'anno scorso, quindi dell'8 al 13 luglio. Faremo un workshop, un corso Experience per i ragazzi che escono dalla scuola d'arte, quindi i neodiplomati che vogliono approcciarsi al mondo del gioiello, per approfondire le tematiche del gioiello artistico, quindi andremo a vedere e a conoscere la storia ora fafanese e a provare, proprio mettere in pratica quelle che sono le tecniche artistiche, artigianali che abbiamo sviluppato a Fano. In collaborazione con la KN Academy saranno presenti anche delle ragazze cinesi che vedranno quindi il valore del nostro artigianato. Il totale nel corso dovrebbero esserci circa 15 ragazzi, possiamo gestire fino a 15 ragazzi, di cui saranno 5 o 6 cinesi. Il restante dei posti invece è tutto a disposizione per i ragazzi italiani o fanesi. Mentre il secondo dal 14 al 22 settembre con il corso Metal, dedicato a chi ha una formazione didattica e pratica della lavorazione dei metalli nobili. Metal è un corso sperimentale in design del gioiello, che vuol far dialogare l'arte contemporanea e il gioiello d'autore, quindi la ricerca creativa nel mondo del gioiello. Sarà presente un guest artist sulla cui opera i partecipanti del corso dovranno ideare e poi creare un gioiello. Verranno utilizzate molte tecnologie innovative contemporanee sia nella creazione che nell'ideazione del gioiello. Quindi ci sarà in gioco l'intelligenza artificiale, le visual arts, la stampa 3D e poi la creazione e il laboratorio dei gioielli ideati dai partecipanti.